buongiorno agli ascoltatori la verità alle sette la ressegna politicamente scorrettissima della verità diciamo visto che da ieri sono risultato positivo al covid farò tutto il possibile per mantenere vivi regolari puntualissimi i nostri appuntamenti online i giornali di oggi finita Sanremo l'eco c'è ancora con interviste ai vincitori commenti interviste al direttore di Rayuno Coletta che pronostica per Amadeus anche uno scenario da Maria De Filippi perché dice Amadeus sa ascoltare, accoglie senza giudizio e naturalmente ovunque Mahmood Blanco ma di questo non ci occupiamo il grosso dei giornali di oggi si divide tra 3-4 temi per un verso è la situazione abbastanza surreale delle norme covid tutti dicono vanno corrette vanno superate però sempre lì stanno e la verità a buon gioco a dire ci prendono in giro vedremo che però diciamo ci sono vedete voi se dei risvegli gran risvegliati tra i giornali e anche tra i consulenti del governo oppure diciamolo chiaramente dei paraguru che si riposizionano in modo furbesco comunque qualcuno che ritiene opportuno diciamo fare una significativa correzione delle posizioni che aveva assunto per mesi in modo aggressivo si ripresentano con la stessa faccia cambiano camicia e cravatta ma pensano che la gente dimentichi vedremo questo tema c'è il tema delle bollette e del caro energia con il governo che però non sembra disponibile a uno scostamento di bilancio e c'è poi il tema diciamo così più arato sui giornali di oggi che è quello delle tensioni che non potendosi scaricare in modo significativo sul governo si scaricano in modo molto più potente sui partiti dentro il Movimento 5 Stelle dove c'è sfida aperta tra Conte e Di Maio oggi è il giorno di una intervista una due pagine a Giuseppe Conte sulla stampa in cui il Conte dice non si possono fare le correnti rivolgendosi sostanzialmente a Di Maio peraltro verso nel centro-destra dove c'è una solo lieve attenuazione della durezza dei toni che tutti i leader hanno reciprocamente usato fino all'altro giorno diciamo ieri i toni si sono un pochino ammorbiditi ma giusto i toni non la sostanza ognuno sembra più o meno intenzionato a camminare per conto proprio pensavamo ci fosse un eco maggiore invece lo spazio c'è ma contenuto sui giornali della intervista inconsueta che Giovanni Paolo II ha concesso a un Fabio Fazio che era inestasimistica superando di slancio Paolo Brosio a Meggiugorie e invece Fazio era inestasimistica divertente anche il parterre diciamo che ha preceduto la conversazione col Papa che ha avuto esattamente i binari che vi immaginate i migranti la povertà eccetera spiritualità no non c'è stato pericolo che né da parte di Fazio né da parte di Bergoglio ci fossero diciamo slanci spirituali ma significativo anche quello che è avvenuto prima per preparare il pubblico di Re 3 la gran sacrestia di Re 3 al Bergoglio Fazio ha radunato in sequenza Saviano Giannini Michele Serra Lassar Zannini e Verdelli senza nemmeno fare la finzione che fanno altri di metterne uno di opinione diversa no diciamo solo tutte le sfumature di rosso rosso antico rosè un tocco di arancio e così via va bene andiamo a vedere le aperture la verità sul fine emergenza ci prendono in giro continuano a limitare i diritti senza giustificazioni scientifiche le veline di palazzo battono la gran cassa sull'allentamento delle restrizioni ma il capo del CTS e il consigliere di speranza svelano dei progetti prolungare obblighi e green pass anche oltre la scadenza fissata e vedremo l'editoriale di Belpietro che prende le mosse dai due giapponesi diciamo che nella giornata di ieri si erano i giapponesi dell'emergenza usciti diciamo dalla canzoncina di Zalone a Sanremo pandemia non andare via Locatelli che dice bisogna mantenere il meccanismo premiale lo Stato che amministra premi e punizione e Ricciardi che dice green pass anche oltre l'estate così l'apertura della verità i risvegliati beh ve lo leggiamo subito la prima di libero di oggi ve lo ricordate il direttore Sallusti che andava nelle televisioni a dare dei cattivi maestri a chi osava dubitare del green pass vi ricordate le aperture green pass passaporto di libertà adesso hop là gli amici di libero titolano la sinistra usa il green pass come arma politica gli speranza boys carta verde oltre lo stato d'emergenza il covid non c'entra più va bene benvenuti dopo dopo sei mesi in cui hanno fatto il ruotino di scorta della linea del terrore diciamo dove non poterono i principi forse ha potuto il crollo delle copie a indicare diciamo la direzione di marcia da corregge andiamo al Corriere della Sera fondi antirincari i partiti premono e il governo frena a centro pagina virus meno dad e restrizioni la curva cala in 20 paesi il giornale apre sul tema energetico Italia contro il nucleare l'Europa torna al carbone vedremo un commento interessante di Nicola Porro cambia completamente tema il tempo è un'apertura completamente aterodossa però ha una sua ha un suo fascino perché dà comunque l'idea di un problema di scarso fair play in Italia non solo istituzionale ma anche d'altro tipo non sparate sull'arbitro nei campionati minori ogni settimana molti direttori di gara vengono picchiati o minacciati in pochi anni oltre 4.000 fischietti hanno lasciato perché spaventati o malpagati la stampa che apre su se stessa l'intervistora Conte che dice non consentirò logoramenti Di Maio correnti intollerabili nulla di personale contro Draghi sosterrò il governo ogni parola una escusazione un petito Repubblica Kiev Salvini apre a Mosca così Repubblica vedremo anche su Repubblica che dedica molta attenzione per un verso alla potenziale crisi nell'est Europa e per altro verso alle mosse della Nato un articolo non spiacerà all'autore abbastanza divertente di Claudio Di ma involontariamente divertente in cui si parla di due ipotetici candidati italiani alla segreteria generale della Nato e vedremo di chi si tratta e diciamo quali sono come presenta le cose Tito allora piano piano incamminiamoci la verità vedremo tra poco rapidissima rassegna alcune segnalazioni del lunedì lo sapete il lunedì la verità ha questo andamento doppio da un lato il quotidiano dall'altro un po' il magazine la riflessione più distesa ma partiamo da Maurizio Belpietro insieme con i colleghi della verità e di panorama mi sono occupato spesso delle innumerevoli balle che alcuni presunti esperti di coronavirus in compagnia di politici e giornalisti ci hanno raccontato negli ultimi due anni l'elenco di stupidaggini diffuso attestate e reti unificate è stato anche in materia di un paio di libri di successo che abbiamo diffuso col quotidiano il settimanale tuttavia non passa giorno che con dichiarazione e interviste non ci venga fornito altro materiale per aggiornare la lista di fesserie propalate come oro colato a incaricarsi di distribuire bagianate a volte il portavoce del comitato tecnico scientifico Franco Locatelli già noto per aver negato che i vaccinati potessero finire in terapia intensiva altre tocca al super consulente del ministro della salute Walter Ricciardi uno che è riuscito a farsi smentire perfino dall'organizzazione mondiale della sanità la quale ha dovuto negare che parlasse a nome suo sì le sciocchezze spacciate per dogmi scientifici sono davvero tante e spesso mi chiedo quando i propagandisti di bugie verranno chiamati a rispondere non di fronte all'autorità giudiziaria perché non credo che le loro contraddizioni siano materia da tribunale ma dinanzi all'opinione pubblica e poi Belpietro evoca tutta una serie di contraddizioni e arriva poi al punto ma perché ci non è stato di lockdown strisciante di restrizioni comunque estese anche per chi sta bene per chi è asintomatico ma è positivo forse per loro ci condannerebbero a uno stato d'allerta perenne del resto proprio loro sono gli ispiratori del certificato verde eterno un passaporto che non ha alcuna giustificazione sanitaria e che infatti altrove non viene tenuto in alcuna considerazione per Locatelli e compagni dovremmo vivere accedere ai servizi poter lavorare sempre mostrando un lascia passare che il documento non certifichi di essere immuni prova ne sia che anche chi è vaccinato contagia e si contagia a differenza di ciò che la combriccola di esperti e politici sosteneva all'inizio non li fa recedere dai propri errori ma anzi li induce a insistere contro ogni logica e in conflitto con il buon senso e scusate se mi permetto ma non potrebbe avere più ragione Belpietro che afferma in termini teorici è quello che tanti io stesso ho sperimentato in termini pratici se non avessi fatto uno dei tre tamponi a settimana che faccio regolarmente pur trivaccinato e con il mio green pass sarei andato allegramente in giro potenzialmente a contagiare gli altri quindi comprendete bene come il green pass non ha nessuna valenza sanitaria semmai può indurre le persone meno consapevoli a una falsa sicurezza e ha invece un sicuro e devastante effetto dannoso sull'economia che tutti constatiamo la verità è che Belpietro hanno il merito di dirlo da molti mesi altri arrivano come abbiamo visto adesso freschi freschi e spiegano le cose interessante il pezzo di francesco borgonovo che diciamo coglie un'altra contraddizione quelli che dicono beh sì adesso voltiamo pagina scordammo ciò passato però ci sono quelli privati dei diritti quelli che dal 15 febbraio saranno tecnicamente privati della possibilità di portare il pane a casa lavorare le interviste del lunedì Federico Novella sente il capogruppo alla camera della Lega Molinari non va bene una situazione in cui l'EU rischi di pesare politicamente più della Lega e sulla normativa Green Pass eccetera potremmo votare in modo difforme Antonio Di Francesco sente la Lezzi che fa le sue considerazioni dice anche ma insomma non avrò grande nostalgia se non dovessi rientrare in Parlamento e dirà qualche elettore figurarsi noi se avremo questa nostalgia la Cazzaniga sente il giurista professor Sinagria che ipotizza azioni legali rispetto a tutto ciò che è accaduto finora assai interessante la conversazione di Alessandro Rico con Claire Craig che solleva il tema di un incremento che c'è stato soprattutto tra i minori maschi delle morti di bambini adolescenti e giovani e il gruppo di riferimento a cui appartiene questa ricercatrice questa esperta in modo prudente dice non è che noi diciamo è colpa necessariamente degli effetti collaterali dei vaccini però non si può escludere a priori che vi sia una qualche correlazione e dunque da questo punto di vista chiediamo un'indagine approfondita mentre Fabio Dragoni conversa con Carlo Cottarelli che ammette dice guardate che le previsioni di crescita andranno riviste al ribasso tra i contenuti della verità di oggi vi raccomandiamo le due pagine curate da Laura della Pasqua su questa storia del bonus edilizio dell'intervento devastante del governo di questa storia per cui anche la cessione del credito viene di fatto stoppata non oltre una volta cioè cambiando le regole a partita in corso con effetti assai pesanti vi raccomandiamo tutto il pezzo tutte le due pagine e la conversazione di Laura della Pasqua con il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani testa che diva i proprietari verranno puniti molti perderanno gli anticipi aumenterà il contenzioso si è giusto contrastare le frodi ma le verifiche dovevano partire subito non è che si cambiano le regole in questo modo va bene fatta questa ampia vetrina iniziale andiamo a rapidamente spicciare un po' di faccenda la questione sanitaria dopo averla inquadrata grazie a Belpietro la questione del governo i 5 stelle il centro-destra e poi le segnalazioni conclusive allora il Corriere della Sera diciamo avrebbe detto Totò Tomo Tomo cacchio cacchio cerca anche lui di dire ma no voltiamo pagina pubblica la foto classica in questo caso dei navigli di Milano con la gente che passeggia bisognerà portare i sali a speranza nel vedere questa foto in cui ci sono dei cittadini che passeggiano speranza ci avrà un mancamento però il mancamento ce l'abbiamo pure noi nel leggere che da oggi ci sono meno restrizioni la cosa è perlomeno discutibile la cosa divertente sono comunque i sommari ma speranza dice serve cautela c'è sempre appena anche quando furbescamente ti fanno intravedere un pochino di luce poi arriva alla fine l'ombra di speranza però non si può abbassare la guardia se no non scherza neanche lo scrittore Emanuele Trevi che viene convocato quando bisogna fare un po' di supercazzola pseudo intellettuale però ne combina una pressa all'altra oggi tutta la pagina 5 del Corriere una lenzuolata di 6-7 mila battute a firma di Trevi che però dice due cose che ci hanno lasciato stupefatti la vera libertà sarà scordarci del coronavirus eh sì comodo quando uno col premio strega eccetera però non se lo scorda chi ha chiuso il negozio chi ha la serranda abbassata chi sta sull'orlo del fallimento a quelli che gli diciamo scordiamo ciò passato e peggio ancora la parte in cui lo scrittore si pone quelle che chiama domande sul futuro riprenderemo ad essere quelli che eravamo ricominciando dal punto in cui tutto si è interrotto oppure si è innescata una mutazione irreversibile e la sola idea di tornare alle vecchie abitudini è pura idiozia come tentare di rimettere nel collo della bottiglia un tappo di spumante eccolo qua pure questi che diciamo non c'è niente da fare non si tratta di anticomunismo viscerale ma questi sono comunisti nella forma mentis sono veramente convinti che non si debba tornare alla precedente normalità in cui ciascuno decide ma che debba essere plasmata dalla mano pubblica dalla saggezza dell'architetto di stato una nuova normalità in cui le regole le stabiliscono loro è veramente uno scenario pericoloso anche perché diciamo nemmeno sembrano avere consapevolezza del problema diciamo i vecchi comunisti avevano consapevolezza ideologica questi vanno ideologicamente verso esiti dirigisti senza neanche diciamo rendersi conto della gravità di quello che dicono sul messaggero un ente inutile chi è l'ente inutile? il sottosegretario alla giustizia è il sottosegretario alla salute di noi con l'italia Andrea Costa che quando rilascia interviste sono o dannose o inutili vedete voi oggi le dichiarazioni che rilascia al messaggero il pezzo è siglato ma dovrebbe essere Mauro Evangelisti a firmare se noi conosciamo la sigla e vedete cosa riesce a dire l'esponente di noi un amico di Vupi per cui così ci chiediamo agli italiani che in questi mesi hanno dimostrato grande senso di responsabilità dobbiamo inviare messaggi di apertura giusto forse mantenere il green pass fino all'estate ma per alcune attività soprattutto quelle all'aperto possiamo rinunciare anche prima avete capito bene tre frasi dobbiamo dare messaggi di apertura bene però allora ci teniamo il green pass fino all'estate che è esattamente il contrario però per qualche attività all'aperto vediamo perché d'inverno all'aperto chissà quante cose si fanno questo signore è sottosegretario alla salute bella squadra alla salute Speranza questo qua Sileri è meraviglioso ma il premio del risvegliato del giorno oltre al libero che abbiamo evocato in apertura se lo prende Agostino Miozzo ve lo ricordate già coordinatore del CTS gli affezionati di questa rubrica ricorderanno una indimenticabile intervista che Miozzo aveva fatto un mesetto un mesetto e mezzo fa al Corriere della Sera in cui voleva l'arresto di coloro che violavano l'obbligo vaccinato ricordate quando c'era il vecchio Giorgio Brecardi che faceva la macchietta catenacci in galera in galera ecco per sua sfortuna sua di Miozzo noi abbiamo conservato la sua intervista al Corriere della Sera di allora alla domanda su quale sanzione lui avrebbe voluto in caso di violazione dell'obbligo vaccinale Miozzo rispose così anche l'arresto perché grazie a chi vuole correre pericoli e li fa correre agli altri ci sono morti e poi non bastandogli l'arresto parlò di multe pesantissime questo stesso Miozzo un mese dopo si ripresenta sulla stampa e dice scuola nel caos sbagliato discriminare i non vaccinati scenderebbe in piazza con i ragazzi a protestare Agostino Miozzo se avesse 50 anni un mese fa voleva l'arresto di chi avesse eventualmente violato l'obbligo vaccinale adesso sta sulle barricate con i giovani finisce sempre così in Italia in farsa sostanzialmente andiamo al governo e a questa storia dei rincari che fa che cosa fa il governo diciamo non si ha la sensazione di una riflessione strutturale che cosa fare con le tribellazioni che cosa fare con il carbone che cosa fare con il nucleare che cosa fare sul piano geopolitico si ha la sensazione di un bricolage quotidiano di cerotti che vengono applicati e possono saltare bene Marco Galluzzo vi riassume le cose sul Corine della Sera i partiti che chiedono più fondi il governo che dice sì ma senza scostamento sostanzialmente solo spostando le vacche di Mussolini solo spostando fondi fondi già esistenti è invece interessante perché va in direzione opposta diciamo al presentismo del governo la riflessione a me pare assai ben costruita di Nicola Porro sul giornale che è un che ha due questioni per un verso il gasdotto Nord Stream 2 e Porro dice beh siamo pragmatici ragioniamoci perché c'è una questione geopolitica da non sottovalutare ma il prezzo del gas si abbasserebbe molto se quel gasdotto diventasse funzionante poi fa un'osservazione tutta domestica e dice i nostri vicini francesi che ancora hanno in funzione una cinquantina di centrali nucleari hanno appena stabilito di aumentare la produzione di centrali di carbone verranno chiuse come da programma ma per i prossimi due mesi dovranno macinare al ritmo più sostenuto per contribuire a tenere sotto controllo i loro prezzi che peraltro sono più bassi dei nostri possiamo fare la stessa identica cosa ci vergogniamo di avere la centrale a carbone più avanzata del mondo a civita vecchia a Monfalcone la Spezia Brindisi fischiettiamo tenendole praticamente spente possiamo anche accettare questi blocchi basta che imprese e cittadini sappiano che abbiamo fatto una scelta e che poi la dovremo paghera così porro sul giornale trasferiamoci sul Movimento 5 Stelle allora ah ecco oggi il grafico delle palle del giramento di palle che venerdì avevamo trovato sulla stampa oggi lo troviamo sul Corriere della Sera allora il grafico del giramento di palle lo sapete sono quelle impostazioni visive che fanno i giornali per rendere la pagina più pensano accattivante agli occhi dei lettori in cui alcuni leader vengono presentati come diciamo una stella e intorno le persone a loro vicine come i pianeti che ruotano allora come sarebbe il giramento di palle dei 5 Stelle ci sarebbero i Di Maiani e chi sono i Di Maiani Laura Castelli Maglio Di Stefano Vincenzo Spadafora Mattia Fantinati e Sergio Battelli un dream team a cui corrisponde altro dream team quello dei Contiani e chi sono Stefano Paduanelli Vito Crini Paola Taverna Ettore Nicheri Claudio Cominari poi ci sono i battitori liberi che sono Fraccaro Toninelli Giarrusso e Buffagni pensato ad altre definizioni per Toninelli Fraccaro Giarrusso e Buffagni no non vi ho sentito vi ho sentito quello che avete detto no non sono quella cosa lì sono battitori liberi e poi ci sono i mediatori che sarebbero Fico Dinka Bonafede Crippa e la Castellone capite bene questa è la situazione rappresentata dal Corriere della Sera ciò che questo grafico mostra visivamente poi è articolato nel pezzo di Claudio Bozza sul giornale Laura Cesaretti dice guardate che il vero oggetto del contendere è il rischio dal punto di vista di Di Maio che Conte che è fuori dal Parlamento e quindi non ha il problema di difendere il suo seggio possa puntare ad elezioni anticipate è questo il problema noi ci permetteremmo di aggiungere che questo è un pezzo del problema perché poi c'è l'altro lato che è la vera pistola carica che Conte ha contro Di Maio probabilmente l'unica su tutto il resto Di Maio appare più attrezzato ed è la questione del secondo mandato del no al terzo mandato Di Maio e tutti gli amici suoi hanno esaurito i due mandati è evidente che ora devono in qualche modo pietire a Conte Grillo una dispensa una moratoria un blocco del divieto esistente sul messaggero viene descritto Di Maio come intenzionato a realizzare una corrente e quindi con l'obiettivo di logorare Conte con una sorta di martellante quotidiana opposizione interna ma oggi la cosa più grossa è l'intervista che Annalisa Cuzzocrea fa a Giuseppe Conte due pagine sulla stampa Di Maio non cerchi di logorarli Draghi sia coraggioso sul bilancio e vediamo come Conte fa una ricostruzione di tutti i giorni del Quirinale dicendo ma come Di Maio partecipava alle cabine di regia con me poi perché come fa a dolersi ma poi si arriva alla questione cruciale quando ha preso in mano il movimento domanda la Cuzzocrea ha promesso meno verticismo ma il conflitto nato sembra dimostrare il contrario non è che il padre padrone lo sta facendo lei mi dicono che nella storia del movimento non ci siano mai stati tanti incontri e cabine di regia come in questi mesi questo sforzo serve a mettere appunto in maniera collegiale una linea politica che aspetta a me riassumere e portare avanti seguire un diverso indirizzo non significa indebolire una leadership quanto creare confusione e danneggiare il movimento domanda quindi non può esserci un'idea di minoranza la risposta quando una linea passa in assemblea congiunta e viene costantemente aggiornata in cabina di regia va rispettata non possono esserci agende personali doppie o triple la forza del movimento è sempre stata quella di non cedere al correntismo della vecchia politica e attenzione perché poi arriva la parte che diciamo gli amici di Di Maio quelli diciamo i di Maiani sottolineeranno con evidenziatore giallo stamattina né possiamo tollerare per il futuro guerre di logoramento interno la nostra comunità è sana e si opporrà in modo compatto a queste degenerazioni della mala politica da chiunque provengano e quindi allora immaginate un Di Maiano che chiama Di Maia Luigi è stato addetto mala politica la giornata inizierà così prima di passare anche questa cosa virtuale del centro sembra appassionato alle vicende del centro il messaggero che oggi sente una serie diciamo il messaggero c'ha Branco che cura l'oroscopo però in questo caso non si rivolge a Branco ma si rivolge a Masia di MG e Risso di Ipsos quindi i sondaggisti però forse Branco era più e dice dicono i sondaggisti facendo l'oroscopo che il centro in costruzione vale il 15% dei consensi quindi voi fate questo testo io non posso uscire di casa stamattina sto in quarantena ma voi uscite e diciamo su 100 persone che incontrate le prime 15 secondi sondaggisti sono pronte a votare per Toti e Renzi vabbè sembra una cosa francamente surreale ma lo dico chi siamo noi chi siamo noi peraltro positivi e segregati per dare torto a chi ha Masia Risso e noto i sondaggisti o peraltro non manca abbastanza di vertempo e per dare il senso poi di questo centro come dovrebbe funzionare l'annunciato verso il 15% è talmente l'annunciato verso il 15% che uno di coloro che diciamo teoricamente dovrebbe fare parte della partita e cioè Carlo Calenda viene sentito sulla stampa da Antonio Brevetti e dice la parola centro mi fa schifo Renzi non lo riconosco più quindi già partono gli sgarassoni però Calenda stamattina ha ragione ha invece torto marcio ieri incredibilmente ha postato incredibilmente per quelli che lo ritengono liberale ha postato sui suoi social delle immagini da come dire da estetica da socialismo reale immagini di Brevetti nei comizi o peggio ancora immagini pardo-sovietiche eccetera ma vedete la passione eccetera non rendendosi conto che alcuni decenni di arte di regime e di cose alle quali poneva a mano il compagno Zdanov avevano esattamente e coordinava e guidava e dirigeva il compagno Zdanov avevano esattamente queste cose però già non chiedete ai protagonisti attuali notizie di Zdanov perché potrebbero pensare a una mezzala dello Spartak Mosca da prendere nella prossima sessione del calciomercato e noi non daremo indizi va bene trasferiamoci sul lato del centrodestra dove pure i casini non mancano è inutile far finita anche questa coalizione ai materassi allora il Corriere della Sera voi annotate l'intervista che vi abbiamo già citato molto interessante sulla verità di Federico Novella al capogruppo della Lega alla Camera Molinari un'altra intervista a un altro dirigente leghista c'è sul Corriere della Sera è uno dei vice segretari di Salvini Lorenzo Fontana lo sente Cesare Zapperich e Fontana diciamo pur nel garbo dell'intervista fa un'intervista pesante e dice ce l'ho con tutti quelli che non hanno votato casellati parlo dei due terzi dei grandi elettori centristi e di un terzo di quelli di Forza Italia è chiaro che avevano in mente l'occasione per mettere le basi a qualcosa di diverso c'è chi ha giocato la partita del Quirinale non per far vincere il centrodestra ma per far fuori Salvini non sono andati per il sottile per colpire lui hanno mandato allo sbaraglio il nostro candidato poi l'intervistatore lo sollecita sul lato destro e anche qui Fontana è esplicito certo in modo diverso rispetto ai centristi ma pure su quel fronte non tutto è filato liscio perché se dopo che è stata bocciata la Casellati ritieni che la coerenza stia nel votare un altro candidato di centrodestra significa che cerchi solo di sventolare una bandiera e non pensi alla necessità di trovare una soluzione allora il tuo obiettivo è screditare chi sta a capo della coalizione e si impegni a trovare una figura che possa rappresentare l'unità del paese e quindi Gian Fontana si rivolge alla Meloni Meloni che poi viene citata esplicitamente nell'intervista quando Zappé dice nel progetto che avete evocato Repubblicano la Meloni può rientrare e Fontana la mette così dipende da lei vuole costruire una destra moderna liberale o conservatrice che sia o vuole rimanere isolata come espressione di una destra statalista ma il discorso non riguarda solo i partiti e Fontana evoca il coinvolgimento della società civile Giorgia Meloni un po' tutti i giornali per comodità vi segnalo la stampa eccola qua danno conto della sua della Meloni intervista di ieri a Massimo Giletti sulla 7 la Meloni dice il partito repubblicano non mi riguarda insieme vedremo è stata la formula della Meloni che ripeto anche lei come gli esponenti leghisti ieri ha solo attenuato i toni ma diciamo non la sostanza del reciproco contenzioso oggi da qualche parte c'è anche un'intervista ecco mentre diciamo tutte le cose che abbiamo citato finora Meloni ieri da Giletti Molinari sulla verità Fontana sul Corriere uno può condividere l'una all'altra tesi insomma sono interviste che cominciano a ricondurre la contesa entro binari politici vorrei dire anche di cultura politica poi che ci sia un esito costruttivo o no questo lo scopriremo in un tempo Salvini ieri ha quantificato ci vorrà un anno di tempo per rimettere in piedi la coalizione e che invece la cosa francamente un po' sgraziata è l'intervista al capogruppo sgraziata priva di grazia oggi magari ce l'avrà domani ma grazie del capogruppo di Fratelli d'Italia nonno Brigida che dice no no questa cosa del partito repubblicano l'ha già fatta Fini ora francamente è vero che Fini nel 99 fece consegne a altri una lista non fortunata per l'europea con il simbolo dell'elefantino ma liquidare la vicenda dei repubblicani americani è comunque di un assetto diciamo monopartitico del centrodestra tema su cui diciamo si potrebbe riflettere in modo arioso mettendogli addosso il bollino di Fini diciamo mostra la scarsa cultura politica e la propensione al battutismo di chi fa quello speriamo si sia trattato solo di un eccesso di un eccesso polemico invece Forza Italia allora il weekend è stato segnato da Renato Brunetti che ha concesso un'intervista a Repubblica sabato mattina dicendo basta qui basta con il bipolarismo bastardo qui bisogna andare avanti in alleanza con il PD le culture politiche i socialisti i popolari ha fatto un gran frullatore qualcuno la verità domenica gli ha fatto notare che è lo stesso Brunetta che ha più volte sostenuto il referendum per il maggioritario al grido di qua o di là Brunetti ci ha abituato a queste trasformazioni vi ricordate quando si denuncia contro lo spread e che poi invece ha mutato opinione andiamo a vedere Maria Stella Gelbini che in modo un po' doroteo sembra ricavarsi un ruolo distinto sia dalla parte di Forza Italia che è più incline a convergere meccanicamente con la Lega sia però anche dai ministri Carfagna e Brunetta che sembrano invece solo desiderosi di prendere le distanze da Salvini la Gelbini in modo un po' doroteo cerca una posizione terza prima dice che non la appassiona il dibattito sulle formule e invece preferirebbe che la discussione fosse sui contenuti poi la presa di distanza da Brunetta apprezzo il ministro Brunetta che sta facendo bene al governo ma ne ho parlato anche con lui non condivido la sua posizione io non ho alcun dubbio sull'appartenenza al centro-destra e chi pensa che Forza Italia possa spostarsi a sinistra non conosce la storia del nostro partito con Sabini mi sono sentita all'indomani dell'elezione del capo dello Stato abbiamo parlato fra le altre cose dell'autonomia differenziata e del problema dei balneari poi la Gelbini è netta nel bocciare il proporzionale volete invece lo diciamo rispettosamente fargli un piccolo e malinconico sorriso sul giornale a pagina 6 tornano i signores di Forza Italia lo ricordate avevano fatto il paginone pubblicitario per dire un uomo buono eccetera oggi il giornale pubblica e significativamente non firma il pezzo cioè i giornalisti pubblicatelo come rapporto dei signores di Forza Italia un documento in cui si dice che il centrodestra esiste solo a guida Forza Italia e con il CAV leader e c'è solo da condiccere gli elettori va bene chiudiamo anche questa parte sul centrodestra le segnalazioni finali allora il Papa da Fazio l'articolo che noi vi raccomandiamo è quello di Giorgio Gandola sulla verità la predica del Papa da Fazio siate buoni accettate i migranti non spettegolate e il pezzo di Gandola è a mio avviso molto ben costruito proprio perché attraverso il racconto dei temi diciamo pure di stretta attualità politica quasi il pastone di un telegiornale su cui Fazio ha interpellato Bergoglio come se Bergoglio fosse protagonista qualunque della scena politica emerge il problema che vi pone Valmuzio ed è curioso che sia un vecchio laico a porre la questione e la spiritualità insomma lui avrebbe da vendere Dio vendere tra virgolette non un'agenda politica eco-immigrazionista questo è il tema e complimenti una volta di più a Giorgio Gandola che vi fa capire il problema a mio avviso Ucraina allora è Repubblica il giornale che sembra più preoccupato delle evoluzioni della situazione è prevista una missione di Macron da Putin vedremo se sarà fruttuosa o se sarà solo parte diciamo della lunga campagna elettorale che Macron deve fare nel suo paese però Repubblica si segnala anche per diciamo questa cosa abbastanza curiosa un pezzo di Claudio Tito sul rinnovo dopo la fine del mandato dell'attuale segretario generale della Nato Stoltenberg del vertice dell'alleanza atlantica e tocca a un europeo e tocca forse a un europeo meridionale e quindi si evocano candidatori italiani ieri giudiziosamente Stefano Veraziosi sulla verità diceva che siamo matti a proporre la Mogherini ci bruciava è evidente che la Mogherini no ma si cercano altri nomi occhio al caffè nella lista scrive Tito i nomi che spiccano sono quelli di Enrico Letta e Paolo Gentiloni ma si tratta di due figure con controindicazioni il primo Letta ha di recente fatto notare di non sentirsi in gara lasciare a giugno la segreteria del PD e qui verrebbe a lasciare nel caos il suo partito il secondo e qui diciamo evitate di ridere in modo scomposto il secondo Gentiloni rappresenta invece una difficoltà per il governo italiano sostanzialmente viene giudicato troppo bravo non si può rinunciare al suo incarico in commissione il suo portafoglio quello degli affari economici sarà fondamentale nei prossimi mesi è troppo bravo è troppo bravo è troppo bravo va bene così Claudio titolo resta una segnalazione finale che volevamo farvi allora sono iniziate le olimpiadi invernali a Pechino è evidente diciamo anche la propensione del regime a un uso propagandistico di queste occasioni c'è però una cosa che ci tocca l'Italia ed è il Corriere della Sera con un boxino neutro neutro a evidenziarla lo spazio è piccolino però il lettore diciamo potrà cogliere degli elementi chi si è congratulato tra gli altri per l'elezione del presidente la rielezione del presidente Mattarella Xi Jinping ve lo ricordate Xi Jinping? sì sì certo allora Di Maio Conte quello che volete ma il presidente era Mattarella e fu accolto al Quirinale cavalli bianchi eccetera poi i Quirinalisti ci hanno detto che Mattarella è un grande atlantista però diciamo quell'accoglienza come a un imperatore a Xi è rimasta indimenticabile in negativo il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio al capo dello Stato complimentandosi per la sua rielezione al Quirinale virgoletta le relazioni tra Cina e Italia hanno un profondo fondamento il rapporto tra i due paesi rappresenta un esempio per la comunità internazionale di rispetto reciproco di ricerca di un terreno comune mettendo da parte le divergenze a favore della cooperazione ed è a essere gentili una dichiarazione avvelenata perché come se dicesse vedete l'Italia non è tutta nel campo occidentale può stare in una posizione terza equidicina equidistante e occorrerà ricordare che il presidente Mattarella allo scoppiare della pandemia convocò l'ambasciatore cinese e organizzò un concerto di amicizia al Quirinale quasi per scusarsi come se ci fosse un'ondata di razzismo anticinese in Italia poi si recò in un asilo multietnico a Roma perché era il momento di abbraccio a un cinese era il momento in cui i conduttori televisivi mangiavano i bottini primavera era il momento in cui quando i governatori leghisti dicevano quarantena per chi venga dalla Cina gli si diceva razzisti ed era lo stesso Mattarella che l'anno prima aveva accolto appunto con i corazzieri a cavallo cavalli bianchi eccetera che ora si congratula in questi temi occorrerà rifletterci finisce qui la puntata di oggi della verità alle 7 noi ci risentiamo questa sera alle 19 con una firma della verità di panorama Alessandro Vico poi ci ritroviamo domattina alle 7 con Francesco Bialietti e naturalmente però l'appuntamento più importante della giornata è in edicola per prendere la verità vi ricordo anche che grazie agli sforzi del team digitale della verità questi spazi possono essere non solo fruiti in diretto e in differita sui canali social twitter e facebook ma anche a posteriori scaricati in formato podcast dal sito della verità sito della verità dove se siete abbonati potete scaricare di gratis il libro di Carlo Tarallo il piano bis sulla rialezione di Mattarella non come incidente ma come diciamo progetto se non siete abbonati da oggi potete inviare una mail all'indirizzo che troverete lì e con soli 3 euro il libro che davvero merita di essere letto sarà vostro buona giornata a tutti grazie a tutti